Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, il quartiere popolare Lampanaro di Crotone è stato teatro di una violenta sparatoria che ha provocato la morte di una persona e il grave ferimento di un'altra. La vittima è Francesco Chimirri, un pizzaiolo di isola Caporizzuto che è giunto cadavere al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, trasportato d'urgenza dai soccorritori del 118. Le forze dell'ordine, tra cui polizia, carabinieri e guarda di finanza, sono rapidamente giunte sul luogo per mettere in sicurezza l'area e avviare le indagini. La sparatoria ha lasciato a terra un altro ferito, un polizotto rimasto gravemente colpito, la cui arma di ordinanza è stata rinvenuta sul posto, mentre un'altra pistola, presumibilmente coinvolta nel conflitto a fuoco, non è ancora stata ritrovata. Le circostanze del tragico evento restano frammentarie, ma le indagini sono già state affidate al nucleo investigativo dei carabini di Crotone, che stanno cercando di chiarire i dettagli di quanto accaduto e di identificare i responsabili di questa sparatoria mortale.